E per salutare il nostro carissimo amico, che purtroppo, penso lo sappiate tutti, Karim Ayadi, detto Hell, è deceduto in un incidente con lo scooter, poco più di un mese fa. Cioè, non aggiungo altro perché poi siamo arrivati un po'. Però comunque eravamo uno dei soggetti preferiti, se non forse il preferito, perché tutta la mia scena di casa. Ci seguivo ovunque, l'anno scorso dico questo e poi continuiamo. E' venuto a Perugia a vederci, cioè, l'abbiamo visto lì a Perugia e ha detto che cazzo ci fai qua? E lui è venuto a vederci, cioè, da solo, a vent'anni, si è fatto tre ore in macchina, cioè, poi di notte è tornato a casa, cioè, per dirvi che persona era. Questa serata ringrazio tutti, l'organizzatore, i gruppi e il thank you name. Lucky Wow! Cazzo! Siamo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti